Ciao a tutti sono Marco Gezza, Brand Ambassador Italia per BIM Santory. Oggi parleremo di Yamazaki Distillers Reserve, single malt di casa Yamazaki, quindi proveniente dalla distilleria Yamazaki, la prima distilleria aperta in Giappone nel 1923, un whisky no age statement, quindi un whisky dove non è specificato l'anno di invecchiamento, nato quindi dall'unione di più malti di casa Yamazaki, un whisky che invecchia in botti ex bourbon e ex sherry e anche un po' di ex bordeaux, quindi un whisky che racchiude in sé le note tipicamente più vanigliate dei whisky americani e le note invece tipicamente più fruttate date appunto dall'utilizzo di botti europee. Al naso quindi e successivamente in bocca esprimerà questo bel contorno di frutta, questa frutta che veramente è l'anima di questo whisky che si andrà poi a completare con delle note di miele e di piacevole speziatura simile a quella del pepe.